Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò un piccolo tour del maneggio in cui monto, come vedete al circolo ippico Taitù, ci troviamo a Palermo. Vi vorrei far vedere un po' le strutture, i campi, paddock, insomma il luogo in cui passo tutte le mie giornate. Davanti all'ingretto troviamo questo paddock, vediamo un litigio, ovviamente che coinvolge Stracciatella, di cui ne parleremo anche più tardi. Proseguendo abbiamo questa magnifica giostra che penso sia anche una delle pochissime se non l'unica qui a Palermo e al mattino, oggi non è ancora in funzione ma presto lo sarà, ci portano i cavalli che appunto non lavoreranno per tenerli in movimento. I don't deny there's some strange evolutionary progress going on, but mankind won't be destroyed. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.